Brasile 1982. È qui che Pierluigi Lattuada, medico e psicoterapeuta, incontra una tradizione antica che esalta le qualità e le risorse dell'essere umano. Inizia così la nascita spiega della biotransenergetica, una metodologia all'avanguardia che consente di esplorare il proprio mondo interiore, un cammino di trasformazione della coscienza e di realizzazione del sé che fornisce strumenti appropriati per un intervento terapeutico. Lattuada oggi forma medici e psicologi con questo metodo. Una metodologia, sottolinea, che è riconosciuta dal Muir, permette di affrontare i problemi con occhi diversi, gli occhi del cuore. Si tratta di una disciplina che con un approccio transpersonale rivendica una visione integrale dell'essere umano e considera ogni organismo vivente come un insieme di processi organizzati in un sistema complesso di energia, materia e coscienza. Un metodo, insomma, che scruta alle dimensioni spirituali di una persona esaltando le sue risorse, un'indagine dell'inconscio per cambiare se stessi, afferma Lattuada, un metodo che non cure il sintomo ma che ne approfondisce la causa provocando uno switch interiore. Ed è per questo motivo che la biotransenergetica è particolarmente indicata per chi ha la volontà di guardare oltre, di mettersi in gioco e avere uno sguardo decisamente più ampio per dare il via a un cammino di autorealizzazione e di padronanza dei propri stati d'animo.